Un nuovo metodo per comunicare con il nostro cane è il clicker. È un piccolo strumento che sostituisce i comandi vocali durante l'addestramento e può essere usato con cani di ogni età. Usarlo e ottenere risultati è molto semplice. Quando premuto emette un suono, e questo il proprietario deve farlo nel medesimo istante in cui il cane esegue il comportamento desiderato, a cui puoi far seguire un premio. Il cane associa così il suono all'azione al premio, capendo istantaneamente cosa vogliamo da lui.